Potente a pala ragazzi, qua Vaxello, GioMegado, ci sono da sole e sono qui a presentarvi su un nuovo video Che ragazzi sarà un video abbastanza tattico e stranerrimo Perché? Perché stranerrimo? Perché ragazzi oggi non avrete la facecam e mi sentirete un po' diverso Questo perché? Perché ragazzi mi è venuta la febbre OMG C'è una cosa abbastanza tattica, praticamente io oggi appunto dovevo tecnicamente parlando studiare per dopo domani Così che appunto io domani avrei potuto fare il video, solamente c'è stato questo piccolo inconveniente Quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di caricarvi un pack opening oggi che appunto è uscito la nuova squadra della settimana Quindi spererò, o meglio spero di trovare qualcosa di veramente magico E secondariamente perché c'è un altro motivo, allora praticamente io tra meno, tra 78 iscritti raggiungerò i 30.000 Quindi ragazzi avevo pensato una cosa, magari domani vi caricherò un video di ringraziamento se appunto vi raggiungeremo domani Ma poi ho detto, c'è un video di ringraziamento deve essere fatto bene, quindi io devo stare al massimo E quindi se magari domani non mi sentirò ancora molto bene il video slitterà venerdì Però ciò cosa comportava? Comportava che io per 3 giorni non mi avrei potuto caricare un video Quindi ho detto, eh no, eh no, eh no, qua non va bene, non possiamo fare una cosa simile E poi ragazzi vi volevo anche dire che forse dovrei aver trovato un video speciale da fare per i 30.000 Allora, non è quello legato al calcio in real life perché quello, come ho già detto, lo farò quando ci sarà un po' più di caldo E ci sarà più spesso un bel tempo Però può essere di una magicità che è It's Over 9 Tosan Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica Comunque prima di iniziare vi volevo ricordare di passare da FIVA con i stessi Il link lo troverete in descrizione Poi vi volevo ricordare di passare al mio secondo canale Che ragazzi lì in Pack of the Day stand andò da grandi Ieri abbiamo trovato un giocatore da 30.000 crediti E appunto dopo andrò ad aprire, a fare l'episodio numero 4 Comunque avevo un'altra cosa a dirvi ma non me lo ricordo Partiamo subito col primo pacchetto e troviamo già un bel Balotelli, uuuuh Balotelli strurle, buono, buonerrimo Primo pacchetto aperto ragazzi non mi sembrava affatto male Quindi andiamo col secondo Comunque veramente avevo un'altra cosa abbastanza importante da dirvi e non me la ricordo Quindi mi sta salendo il crimine, schizzo male ragazzi Secondo pacchetto Uh, Lucas Va bene anche lui ragazzi stiamo andando abbastanza benerrimo Quindi non mi sembra male E poi volevo dire un'altra cosa Che non era appunto quella cosa che volevo dirvi prima Però trunk Ragazzi quando io non faccio la facecam nei pack opening Sono sempre ma sempre molto più fortunato E' una cosa veramente assurda Quando faccio la facecam non trovo mai nessuno Tipo nel pack of the day due episodi in cui non ho messo la facecam Due episodi in cui ho trovato tipo un giocatore da 10.000 crediti o più Quindi andiamo ad aprire Sto morendo il terzo pacchetto Nessun informa Dai oh, io voglio un informa della nuova settimana Mi va bene qualunque cosa Però io ne voglio uno Quindi andiamo ad aprire il prossimo pacchetto Vabbè ragazzi mi sono ricordato di dirvi un'altra cosa Io avevo in mente una marea di cose Me le devo scrivere Scrivetemi nei commenti che giocatore vorreste che io pink palassi Io pensavo a chiellini if Però non troviamo ancora niente Però appunto pensavo a chiellini if Quindi fatemi sapere voi cosa pensate Poi c'è tipo Schneider Una cosa abbastanza tattica Poi Tiago Madonna quanto becca Tiago ragazzi C'è anche Tiago Quindi noi potremmo pink palare anche Tiago Oppure Tiago e chiellini Comunque fatelo sapere nei commenti E andiamo avanti Ovviamente mi scuso per come mi sto presentando in questo video Altro giro Altra corsa E non troviamo niente Traore E mai quello pattone ragazzi Perché il vero Traore E' un talismano E un talispiede Che noi non possiamo neanche immaginare Comunque adesso i pacchetti stanno andando abbastanza male Non so quanti ne aprirò Però io voglio trovare un informa Quindi Allora arriviamo a 100.000 cariti Dai 88.000 cariti ancora Per trovare un informa Dai Dai Lionel Dai Lionel Noi lo vogliamo Oh non vuole arrivare Non vuole arrivare Ma noi lo andremo a cercare Ragazzi Altro pacchetto Arturo Che quando Lo strode Altro pacchetto ragazzi Venga Arturo Quando lo strode No no Quando lo strode Arturo E andiamo Oddio un informa Oddio un informa Ma che cor ma Dai Oh ragazzi Quando Gioco su Arturo Pensa Arturo Però dai E' quello più scarso Di tutto il team of the week Però no Ma Io ragazzi ve l'ho detto Senza facecam La mia fortuna E' It's over 9000 Quindi Va bene Abbiamo trovato un informa Quindi tecnicamente potrei finire qua il pacchetto Ma non lo finisco Perché io voglio due informa in questo video Ebbene si Dai Ancora Arturo Ragazzi Se Arturo ci fa la doppietta Cioè Io non ho parole Io non ho parole Vediamo Vediamo Dai Jumpiamo Oppa E no E no E no E no Madonna Non c'è due senza tre E Arturo Ciapa che gli è Dai Oh Questo è buono Me lo sento Lo sento nell'aria Lo sento nell'aria Non è vero Era qualcos'altro Era qualcos'altro Che io sentivo nell'aria Questi giocatori buggati Però Noi li dobbiamo scartare E andiamo avanti Cioè ragazzi Questa coppia Questa coppia è C'è troppa magicità In una coppia Cioè Io non ho parole Noi andiamo a prendere con il naso Questo pacchetto Anche se voi non potete vedere Andate sulla fiducia Dai Dai Oh Che palle Cos'è Dov'è la fortuna Ma dov'è Ma io non la vedo Dobbiamo vederla Cioè Arturo Basta La magicità di Arturo È finita Alaba 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 Io alabo Tu alabi E gli Sdrogo Dai 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 Oh Ma stiamo Scherziamo Dai Dai Via Via Veloze Veloze E quando si è registrato Uh 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 E ciao E sarà Ragazzi Apriamo gli ultimi tre pacchetti Perché il video sta durando un po' tropperrimo Il dato che voglio caricarlo il prima possibile Ehm Dovrò tagliarlo Nooo Dani Nieto Quanto vali Quanto vale Mi va bene anche se vali 10.000 10.000 e mi accontento E vale 2.600 E vale 2.600 Buono 1.250 Tu sei magico Tu sei magico Quindi ti conserverò nel club Basta L'abbiamo trovato È qua È qua È qua Battiamo due oltre le mani Basta È trovato Se anche voi l'avete battute Qua Sapete già che troverò qualcosa di buono Quindi potete andare sulla fiducia L'avete battute Sì Vediamo che troviamo Vediamo che troviamo Oh Vi Vedete Vedete Io ve l'ho detto Victor Valdez Che varrà Sì o no 1.200 crediti Però è magico Lui è magico L'anno scorso Due anni fa Ve le va un macello Tipo E vale 1.500 Pensavo valessi almeno 500 crediti in più Ma non li vale nemmeno Però ragazzi Victor Valdez è famoso Quindi avete battuto le mani Due volte Io vi ringrazio E ora noi ci accingeremo Ad aprire Eh sì Ci accingeremo Ad aprire l'ultimo pacchetto E una cosa abbastanza Datti cazzo E tatti cazzo Dai Oh L'ultimo pacchetto È il pacchetto Ragazzi Io conterò fino a 3 E poi ci Anzi no L'ultimo bisogna concluderlo con Alaba Perché con Alaba Andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto Vediamo se troviamo qualcosa Oh Dobbiamo giampare Dai 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 Oh E abbiamo trovato 500 crediti però E voi sapete bene Quando si trovano 500 crediti Cosa si deve fare Si deve andare a prendere L'ultimo pacchetto Perché Il video sta allungando Sta allungando Sta allungando Si sta dilungando Veramente troppo Alaba Messi L'ultimo pacchetto Dai oh Battiamo 3 volte le mani adesso Perché la magicità Quando si fa dura È 3 volte Battito di mani Non so neanche Che sto dicendo Evidentemente sto delirando La febbre mi sta dando La bellezza Che schifo Eh però Devo finirlo qua Perché la nostra fortuna Non è magica E no E no Comunque ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Appunto mi riscuso Per essermi presentato Con questa voce Perché però Ahimè Ho un po' di febbrez Vi ricordo di passare Al mio secondo canale Che appunto sto facendo Questa serie Da ormai 4 giorni Che è il pack of the day In cui però Uno o più pacchetto Ogni giorno E vi ricordo di passare Dalla pagina facebook E detto questo Vi ricordo anche di iscrivervi E mi raccomando Mettete mi piace Per farmi stare meglio Scrivetemi anche nei commenti Che giocatore vorreste Che io Pink Palace Di questo nuovo team of the week E detto questo Vi saluto Vi dico potente A parlare Sì dentro il prossimo video Bolla